Musica Trovato privo di vita Tommaso Rando Mazzarino, detto Ciolletta Caso di pedofilia a Trapani, arrestato un bidello Arrestati a Castellammare due giovani ladri Altra giornata difficile per il deposito dei rifiuti di Velice Ambiente A Mazzara arrivano contributi e assistenza per anziani e affetti da SLA Torna a Salemi la tradizionale festa di San Giuseppe Benvenuti al TG8 Informazione Si chiamava Tommaso Rando Mazzarino, 45 anni Conosciuto a Mazzara con il soprannome di Ciolletta E' stato trovato privo di vita questa mattina tra le 4 e le 5 All'inizio di via Mozia nei pressi del ponte sul fiume Mazzaro Che conduce verso la via Piersanti-Mattarella L'uomo è stato trovato steso per terra da un passante che ha avvertito la polizia Dai primi accertamenti effettuati Sembra che le cause del decesso siano da attribuire a un malore Dovuto alle sue precarie condizioni di salute Da tempo l'uomo che era un tossicodipendente E pregiudicato per reati patrimoniali Era stato visto molto dimagrito Nel mese di dicembre del 2008 Era stato arrestato anche per evasione dagli arresti domiciliari Ed era rimasto nel carcere di Marsala per qualche mese Il cadavere dell'uomo è stato trasportato presso l'obitorio del cimitero Dove il medico legale dovrà accertare le cause del decesso In manette a Trapani Un bidello accusato di avere compiuto atti sessuali Nei riguardi di un'alunna di quarta elementare Frequentante la scuola in cui l'uomo prestava servizio Sentiamo i maggiori dettagli nel nostro servizio I carabinieri della compagnia di Trapani Hanno tratto in arresto un operatore scolastico Un bidello Di un istituto primario di una frazione del capoluogo L'uomo, 59 anni, di Trapani Ma residente in provincia Ha ritenuto responsabile di avere compiuto in diverse circostanze Atti sessuali nei confronti di una alunna di quarta elementare La complessa attività di invagine Coordinata dalla procura di Trapani È scaturita a seguito della segnalazione Effettuata presso un comando stazione carabinieri Dai genitori della bambina Ai quali la piccola aveva descritto le particolari attenzioni Che l'uomo le aveva più volte dedicato Gli uomini dell'Arba hanno quindi dato inizio ad un articolato Quanta delicata attività investigativa Svolta anche con l'ausilio di sofisticate apparecchiature Di ripresa audio-video Finalizzata ad appurare le reali responsabilità dell'impiegato Nella tarda mattina da ieri L'uomo è stato sorpreso Mentre approfittando di un momento di particolare tranquillità Dopo aver eseguito la vittima nell'antibagno Ha afferrato la bambina palpeggiandola E baciandola ripetutamente Il tempestivo intervento dei carabinieri ha posto fine Al deplorevole comportamento dell'operatore scolastico Immediatamente dichiarato in arresto E condotto presso gli uffici della compagnia carabinieri di Trapani L'uomo è stato successivamente tradotto Presso la casa circondariale San Giuliano Furto con scasso nella notte Nel rifornimento esso di via Marinella Castelvetrano I gnoti hanno lanciato a folle velocità La loro auto contro la saracinesca Della rivendita di tabacchi Rompendo anche il vetro interno della porta In pochi minuti hanno portato via liquori Sigarette, grattevinci e pare anche soldi che erano nella cassa Il danno sembra ammontare a 10.000 euro Dalle immagini si nota un'auto Station wagon di grossa cilindrata Che a marcia indietro ha urtato la saracinesca Creando così un varco Che ha consentito ai tre banditi Di entrare e fare razzia Sul posto i carabinieri di Castelvetrano Per le indagini Fermati ieri pomeriggio a Castellammare del Golfo Due giovani ladri palermitani Avevano trafugato merce da un supermercato Sentiamo Ieri pomeriggio sono stati sorpresi E fermati due giovani palermitani Nel tentativo di dileguarsi dal supermercato Denominato spaccio alimentare di Castellammare del Golfo Con un bottino del valore di 300 euro circa Numerosi prodotti cosmetici Refurtiva che probabilmente gli stessi intendevano rivendere al miglior offerente Il personale addetto al supermercato ha notato lo strano atteggiamento dei due Ed in sospettitisi che gli stessi potessero aver trafugato qualcosa all'interno del supermercato Immediatamente hanno richiesto l'ausilio dei carabinieri Sono intervenuti i militari della stazione di Castellammare del Golfo Che dopo un breve inseguimento a piedi Riuscivano a fermare i due malviventi E a recuperare la refurtiva Inoltre visualizzate le riprese dell'impianto di videosorveglianza All'interno del supermercato Si poteva appurare che con grande destrezza Avevano nascosto la refurtiva all'interno di una sacca nera Con la quale si era allontanato uno dei due Non passando per le casse Mentre l'altro aveva effettuato l'acquisto di generi di modesto valore Per non dare nell'occhio I carabinieri hanno proceduto immediatamente All'arresto in flagranza per furto aggravato Di Francesco Mertoli classe 1994 E Dionisio Mertoli classe 1990 Palermitani in trasferta E gravati da precedenti analoghi Gli arrestati venivano poi ristretti Temporaneamente in camera di sicurezza A disposizione dell'autorità giudiziaria In attesa del giudizio direttissimo Svoltosi nella mattinata odierna Con convalida dell'arresto E sottoposizione ai domiciliari I carabinieri della stazione di Valderice Hanno arrestato Gaspare Bonanno 28enne ericino In esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere Emessa dal GIP presso il Tribunale di Trapani Il giovane, già noto alle forze dell'ordine Ritenuto responsabile Con un altro complice ancora non individuato Di due furti in abitazione a Valderice Il 6 e l'8 settembre del 2014 In entrambi gli episodi Due presunti ladri Approfittando dell'assenza dei proprietari di casa Si erano introdotti nelle abitazioni delle vittime E avevano rubato orologi, gioielli e denaro contante L'arrestato è stato rintracciato e bloccato Mentre faceva rientro a casa Quindi una volta dichiarato in arresto È stato trasferito presso la casa circondariale San Giuliano Assolto il boss mafioso Francesco De Vita Il boss, il cui nome ai tempi dell'arresto Compariva nella lista dei 100 latitanti più pericolosi Era accusato di un omicidio e di due tentati omicidi Sentiamo Il gruppo di Palermo Marina Petruzzella Assolto il 61enne boss mafioso marsalese Francesco De Vita Da alcuni fatti di sangue Dei quali si era autoaccusato Quando dopo l'arresto avvenuto il 2 dicembre del 2009 Aveva deciso di iniziare a collaborare con la giustizia Per poi fare però dietro fronte De Vita si era autoaccusato di un omicidio Quello di Gaspare Zichittella Ucciso nelle campagne di Madonna Alto Liva E due tentati omicidi Vittime designate Pietro Chirco e Antonino Titone Consumate nel corso della faida del 1992 Ma adesso il gruppo Petruzzella a conclusione del processo corrido abbreviato Lo ha assolto da quei reati Condannandolo comunque per associazione mafiosa In continuazione con la pena dell'ergastolo Ormai definitiva che il De Vita sta scondando per mafia E per l'omicidio di Giovanni Zichittella Ucciso a Marsala nella zona di Porticella Il 15 giugno del 1992 Di quelle gruppo di fuoco avrebbero fatto parte anche Vincenzo Sinacori e Antonino Gioè E in versione di registi del comando Anche Gioacchino Labarbera e Leluca Bagarella Giovanni Zichittella, detto Vanni, anziano pastore Era padre dell'ex affiliata a Cosa Nostra E poi stiddaro Carlo Zichittella Che successivamente, persa la guerra con la locale famiglia mafiosa Decise di collaborare con la giustizia Dalle dichiarazioni rese da De Vita Dopo l'arresto ha preso le mosse L'indagine della direzione distretto all'antimafia di Palermo Che all'alba di lunedì è sfociata come noto Nell'operazione dei carabinieri Drew Witness La sentenza del gruppo Petrussella però Secondo l'avvocato Giacomo Frazzitta Difensore di De Vita Viene un po' a incrinare La credibilità di un soggetto Che viene assolto per i fatti di sangue De quale si era autoaccusato Nel 2009 Francesco De Vita Fu arrestato dai carabinieri dopo circa dieci anni di irreperibilità Allora era inserito nella lista Dei cento latitanti più pericolosi d'Italia Dopo lunghe ricerche i carabinieri lo individuarono In una villetta di contratti a Ventrischi A De Vita l'ergastolo fu inflitto nell'ambito del processo Patti più 40 Scatolito dall'operazione di Libeo del 1 aprile 1993 Che vide finire in carcere 50 persone Accusate di avere partecipato direttamente Direttamente o indirettamente alla guerra del 1992 L'indagine sulla società informatica Sicilia e Servizi Che faceva capo all'ex presidente del libero consorzio di Trapani Antonio Ingroia Non sarà archiviata contro i gnoti A deciderlo il GIP di Palermo che al contrario ha chiesto nomi e cognomi in servizio Il GIP del Tribunale di Palermo ha respinto la richiesta di archiviazione contro i gnoti Dell'indagine su Sicilia e Servizi La società che gestisce i servizi informatici della regione Sicilia Ordinando alla procura di indagare i presunti responsabili Dando loro un nome e un cognome Tra i soggetti individuati dalla Guardia di Finanza Dal cui rapporto il giudice Lorenzo Matassa Ordina di estrapolare i nomi delle persone da indagare Ci sono il presidente di Sicilia e Servizi L'ex PM Antonio Ingroia E il governatore siciliano Rosario Crocetta Nel mirino una serie di assunzioni effettuate in violazione delle norme Che bloccano le immissioni in servizio nella pubblica amministrazione La procura deve adesso dare seguito all'ordine del giudice Il rigetto della richiesta di archiviazione E il conseguente ordine di indagare noti Riguarda pure Mariano Pisciotta Rappresentante dell'organismo di controllo di Sicilia e Servizi Gli assessori in carica a dicembre 2013 L'epoca dei fatti Antonino Bartolotta Ester Bonafede Dario Cartabellotta Nelli Scilabra Michela Stancheris E Patrizia Valenti L'accusa contro Ingroia muove dal fatto Che da commissario liquidatore L'ex procuratore aggiunto di Palermo Stipulò contratti con 75 dipendenti della Sisev Società privata satellite dell'azienda pubblica Si sarebbe trattato di assunzioni mascherate Nella pubblica amministrazione Effettuate in violazione delle regole Che prevedono le emissioni in servizio nel pubblico E il blocco in questo settore Disposto per ragioni di spending review Altra giornata difficile Per gli 11 comuni del lato TP2 e Bellici Ambiente Perché non sanno dove poter scaricare i rifiuti Questa mattina alcuni mezzi sono partiti Dalle sedi delle città Per raggiungere la discarica di Borranea Su ordine del commissario straordinario Del lato TP2 Sonia Alfano Ma sono stati bloccati nei pressi della discarica Dai vigili urbani di Trapani Per non farli avvicinare al cancello della struttura di Borranea Non si capisce perché i mezzi siano stati fatti partire Se a Borranea non si può scaricare Perché l'ordinanza del sindaco di Trapani Vito Damiani È molto restrittiva E richiama due articoli di legge Che chiudono ogni possibilità Per altri comuni di poter scaricare Occorrerebbe la messa in atto Di una disposizione regionale A firma del governatore Che imponesse l'apertura della discarica Anche ad altri comuni Intanto negli 11 comuni I contenitori dei rifiuti sono già colmi I sacchetti di spazzatura sono per strada E i mezzi di raccolta sono carichi Di residui solidi urbani Dalla raccolta di domenica e lunedì Il consigliere comunale di Mazzara Del Movimento 5 Stelle Nicola Lagrutta In una interrogazione rivolta al sindaco Chiede chiarimenti Sulla installazione Di una centrale solare termodinamica Nel territorio di Mazzara del Vallo Nella interrogazione viene spiegato Che nel comune di Mazzara E precisamente in località Carcitella È prevista la realizzazione Di una centrale di produzione Di energia elettrica Tecnologia solare termodinamica Da parte della ditta Insulation SRL Con sede a Palermo La Grutta rileva che il territorio Ha una vocazionalità Per l'installazione Di questa tipologia di impianti Chiede di conoscere La tipologia specifica di impianto Che l'impresa proponente Intende realizzare E nello specifico Il tipo di fluido termovettore Che si intende utilizzare Per ridurre al minimo Il rischio di incidenti Potenzialmente pericolosi Per gli operatori dell'impianto E per il terreno È stata presentata Dal consigliere del Movimento 5 Stelle Di Campobello di Mazzara Tommaso di Maria Un'interpellanza al sindaco Che ha per oggetto Divorzio semplificato Nell'interpellanza pertanto Si chiede al sindaco Se a intenzione dell'amministrazione Predisporre tutti gli atti necessari Al fine di rendere immediatamente Disponibile L'istituzione dello sportello Per la separazione e i divorzi Così come disposto dalla legge A Marsala si respira Aria di elezioni Con tutta probabilità La città andrà al voto Durante i primi giorni di maggio E in questa atmosfera Il panorama politico Lili Betano Va sempre più delineando Si sentiamo Non c'è ancora ufficialità Ma con ogni probabilità Marsala andrà al voto Il prossimo 10 maggio Con un eventuale turno Di ballottaggio il 24 L'assessorata agli enti locali Della regione siciliana Convocherà a brevi comizi All'inizio si credeva Che sarebbe stato L'ultimo fine settimana di maggio Quello buono Per le elezioni Anche perché Alla regione C'è la grana della finanziaria Da approvare entro fine aprile E invece sembra Che abbia prevasto La voglia di evitare Il gran caldo di giugno Per delle elezioni Molto delicate Poiché convolgono Non solo Marsala Ma anche Gele e Agrigento Dove il Partito Democratico Si è alleato Con Forza Italia Questo anticipo Sui tempi Significa che Entro fine marzo Tutto deve essere definito E ormai mancano pochi giorni Ore di incertezza Per Stefano Pellegrino L'avvocato Marsalese Tentenna Sulla sua candidatura Alternando momenti Di adesione Alla proposta Fatta da Salvatore Lombardo E soci Ad altri di scoramento Per quanto riguarda Il Partito Democratico Verrà presso Il segretario regionale Del PD Fausto Raciti A sancire La candidatura Di Girolamo Mettendo così A freno Polemiche E tensioni interne Di Girolamo Sarà sostenuto Dalla lista del PD Da una sua lista civica Dalla lista Del Partito Socialista E poi ancora Dalla lista Dell'Udc E da quella Di futuro Per Marsala E di rinascita Marsalese E lo stesso Pino Malazzo Per quest'ultima Formazione Ad ammettere Ormai non facciamo Più misteri Siamo con Alberto Di Girolamo Resta il mistero Su cosa abbia Intenzione di fare E Leonora Locurto Che ha già annunciato Che ripresenterà La sua lista Già presentata Nel 2012 E Giulia D'Amo Che ha avanzato La candidatura Di Giacomo D'Ugo Si è rimasti Alquanto perplessi Nell'essere indicati Dal neopresidente Dell'Ordine dei Medici Che ha sempre manifestato La volontà Di operare A fianco dell'azienda Come esempio Di mala gestione Di scarsa Attenzione Alle problematiche Sanitarie provinciali Il direttore sanitario Dell'Asp Antonio Siracusa Respinge fermamente Alcune affermazioni Del presidente Dell'Ordine dei Medici Rino Ferrari Qui rivolge Anzi Come già fatto In passato Con il presidente Dell'Ordine Pro Tempore Giuseppe Morfino L'invito Ad una fattiva E attenta collaborazione Al fine di garantire Al meglio La salute del cittadino Siracusa Comunque Ammette La consapevolezza Che all'Asp Di Trapani A fronte Di un miglioramento Di conti economici E finanziari Sussistono Delle criticità Ma nega Responsabilità Della gestione Aziendale Il distretto sanitario Di Trapani Dell'Asp Aderisce Alla giornata Mondiale Del rene Che si svolgerà Domani Giovedì 12 marzo Le patologie renali Interessano In Italia Il 7,5% Degli uomini E il 6,5% Delle donne Nell'ambito Delle iniziative Per sensibilizzare La popolazione All'ambulatorio Territoriale Di nefrologia Della cittadella Della salute Con la collaborazione Del dottore Giacomo Riccobene I cittadini Potranno eseguire Gratuitamente Una visita breve La misurazione Della pressione Arteriosa E l'esame Estemporaneo Delle urine L'ambulatorio Sito al primo piano Sarà aperto Dalle 8,30 Alle ore 13 E dalle 15 Alle 17 Legge Sul personale Degli enti pubblici Sindacati Proclamano Lo sciopero Per il prossimo 20 marzo Il servizio I sindacati Dicono no Al testo Del DDL Di stabilità 2015 Sul tema Del pubblico Impiego Il testo E' stato respinto Con forza Si vuole passare Subito Lo sciopero Previsto Per il 20 marzo Di recente Cobas Codir Sadirs Siad FPCGL CisleFP UIL FPL UGL Edirsi Sono stati convocati A Palazzo d'Orlean Ma la rottura Con il governo Regionale E' stata netta I segretari generali Di categoria Dei sindacati Hanno dichiarato Che il governo siciliano Non ha recepito Alcuna proposta Formulata Nei giorni scorsi E che quindi Ogni tentativo Di parola E' inutile Abbiamo sperato Nella possibilità Di un dialogo Allora abbiamo deciso Di unire le forze E ci faremo sentire In modo unitario A cominciare Dal sitine Delle 17 marzo Sotto Palazzo d'Orlean La data Dello sciopero E' quindi il 20 marzo E vedrà coinvolti Tutti i sindacati Autonomi E confederali Secondo i quali Le misure di contenimento Della spesa Tagliano i diritti Senza portare Ad una maggiore efficienza Della pubblica amministrazione Stando ai segretari Dei sindacati Il disegno di legge Toglierebbe potere All'amministrazione regionale Lasciando in primo piano Solo dei semplici tagli E lineari Si interviene pesantemente Su materie contrattuali E sulla struttura Dell'amministrazione Al di fuori Di un reale confronto Con le parti sociali Dicono i segretari Inoltre Il testo Riformerebbe Il sistema previdenziale Con formulazioni retroattive Che espongono la regione Ad una serie di contenziosi Che colpiranno In futuro Il bilancio regionale Il problema Riguarderebbe anche I salari del personale Tecnico del corpo forestale I responsabili sindacali Sottolineo L'importanza Per la Sicilia Di una riforma Della pubblica amministrazione Regionale Condivisa con le organizzazioni Sindacali Che possa intervenire Sugli sprechi E che investa sul merito E la requalificazione Del personale Il comandante Del secondo comando Delle forze di difesa Generale di corpo D'armata Carmine De Pascale Ha trascorso la mattina Nella città di Trapani Dove è stato ricevuto Dal prefetto Leopoldo Falco Con il quale Si è soffermato A discutere Sul supporto Che i bersaglieri Del sesto reggimento Forniscono Nell'ambito Dell'operazione Strade Sicure Un impegno importante Che contribuisce A fornire ai cittadini La percezione Di sicurezza E di presenza Dello Stato Parole di plauso Per i militari Della Osta Anche dalla direttrice Del centro Identificazione Ed espulsione Di Milo La dottoressa Maria Concetta Papa Della cooperativa Badia Grande Dove i militari Dell'esercito Supportano Le forze di polizia Nell'attività Di sorveglianza Del centro La capitaneria Di porto Di Mazzara del Vallo Ha ricevuto ieri La visita istituzionale Delle massime autorità Rappresentanti La marina militare Nella regione Accolti Dal comandante Capo del compartimento Marittimo Di Mazzara del Vallo Capitano di fregata Davide Accetta E dal suo staff Sono stati tributati Gli onori Al comandante marittimo In Sicilia Contra ammiraglio Nicola De Felice E al direttore Marittimo Della Sicilia occidentale Capitano di Vascello Gaetano Martinez Nell'occasione L'ammiraglio De Felice Ha voluto incontrare Anche i principali Rappresentanti Dell'armamento E della marineria mazzarese I quali hanno rappresentato Le principali problematiche Che investono Il settore Della pesca A Mazzara Arrivano contributi E assistenza Domiciliare Per persone affette Da SLA E anziani Non autosufficienti Sentiamo L'assessore comunale Alle politiche sociali Di Mazzara Anna Monteleone Rende noto Che sono in pubblicazione Un bando di gara Ed un avviso Inerenti prestazioni sociali Per soggetti Svantaggiati Da parte Del distretto Socio-sanitario D53 Di cui Mazzara È capofila In particolare È pubblicato Nell'albo Pretorio Online L'avviso pubblico Per il sostegno economico Rivolto ai nuovi soggetti Affetti Da SLA Nell'avviso Viene specificato Che la persona Che si prende cura Per più tempo Dell'assistito Affetto Da SLA Svolge una funzione Di assistenza diretta Ed è coinvolto Nella cura Quotidiana Dell'assistito Per tali ragioni È previsto Un contributo economico Di 400 euro Mensili Le istanze Per l'accesso Ai contributi Possono essere Presentate Presso l'ufficio Servizi Sociali Del comune Di residenza Facente parte Del distretto Socio-sanitario D53 Composto da Mazzara Salemi Vita E Gibellina Dal familiare Del soggetto Affetto Da SLA Entro E non oltre Il 30 marzo 2015 Per il semestre Gennaio-giugno 2015 Ed entro E non oltre Il 30 settembre 2015 Per il semestre Luglio-dicembre 2015 Sempre a cura Del distretto Socio-sanitario D53 È stato inoltre Pubblicato Il bando di gara Per l'assegnazione Del servizio Assistenza domiciliare Integrata Rivolta ad anziani Non totalmente Autosufficienti L'importo complessivo Del servizio È di 559 mila euro Grazie ai fondi Che il distretto Socio-sanitario Ha ottenuto Dal ministero Della coesione Territoriale Nell'ambito Del primo piano Di riparto Dei fondi PAC L'impresa Che si aggiudicherà Il servizio Con il sistema Dell'offerta Economicamente Più vantaggiosa Dovrà garantire Prestazioni di igiene E cura Della persona Attraverso Operatori Socio-assistenziali Con una media Di 8 ore Settimalane Per ogni anziano Non autosufficiente I soggetti Che intendono Partecipare Alla gara Debbono presentare L'istanza di partecipazione Entro e non oltre Le ore 13 Del 26 marzo 2015 Al protocollo Generale Del comune Di Mazzare del Vallo Con la disponibilità Dei fondi Si prevede Un'assistenza Per circa 130 anziani La stessa Asp Fornirà Prestazioni sanitarie Domiciliari Quarto appuntamento Al Cine Rivoli Di Mazzara Con la rassegna Cinematografica Metti una sera Al cinema Stasera Verrà proiettato Words and Pictures Con Clyde of Owen E Juliette Binoche Due le proiezioni Alle 18 E alle 21 Nella Sala Rossa Ma vediamo insieme Il trailer del film Guardatevi Tweetate gli amici Per dire cosa Ho mangiato uno yogurt Sì Tammy Non ha corretto I nostri ultimi tre compiti Che frase monotona E laboriosa Vi presento La nostra nuova insegnante La professoressa del santo E com'è soprannominata? Il ghiacciolo Dicono che abbia picchiato Uno studente No Era un professore In questo corso Ci interessa Ciò che possiamo definire Belle arti Le parole sono menzogne Le parole sono trappole Ecco una parola per lei Arroganza Ed ecco un'immagine Questa è guerra Guerra C'è bisogno delle tue poesie Abbiamo bisogno Solo di cibo Di riparo Di aria E di sesso Le parole sono un optional E il round va Alla del santo Eri la nostra star letteraria Che differenza fanno Le mie pubblicazioni Una grande differenza Ha reso facile Perdonare i tuoi difetti Voglio non licenziarmi Puoi pensare A una cosa carina Da dire su di me Sono senza parole Questa guerra insensata Sta rinvigorendo i ragazzi Credo che tu sia un bravo uomo Non lo sono Ma sono un bravo insegnante Forse il nostro lavoro È il meglio di noi L'area marina protetta Isole Egadi Sarà presente A Fa la cosa giusta La fiera nazionale Del consumo critico E degli stili di vita Eco sostenibili Giunta ormai Alla sua dodicesima edizione Che si svolgerà a Milano Dal 13 al 15 marzo La presenza Alla importante manifestazione Sarà garantita Dalla collaborazione Con Lega Ambiente Che ospiterà Nel suo stand L'area marina protetta Presso l'area Welfare territoriale Nel padiglione 4 Di Fiera Milano City Come da tradizione Anche quest'anno Salemi tornerà A festeggiare San Giuseppe Una festa All'insegna della tradizione Ma anche di nuove E interessanti iniziative Sentiamo Riti secolari Antiche tradizioni Degustazioni Ma anche mostre Musiche e incontri Torno a Salemi Dal 14 al 22 marzo La tradizionale festa Di San Giuseppe Che quest'anno Si arricchisce Con un programma Pieno di iniziative Alle antiche celebrazioni La festa aggiunge Un calendario di eventi Nel segno Della contemporaneità Come recita Lo slogan Dell'edizione Di quest'anno Contemporanea tradizione Con i concerti Con i concerti Con i concerti In piazza Licia Di Sicily Bras Quintet Sabato 14 marzo E De Matrimia Sabato 21 marzo E laboratori didattici Dedicati alla simbologia Dei pani e delle cene Rivolte alle scuole Del territorio Ma anche ai visitatori Che potranno assistere Alla preparazione Del pane In piazza libertà E in piazza dittatura E alla costruzione Della cena di San Giuseppe In piazza Licia Dopo l'anteprima della festa Con la rassegna Di documentare Mietiture Doc Da sabato prossimo Il programma Entra nel vivo La festa di San Giuseppe Ha detto il sindaco Di Salemi Domenico Venuti E' un momento importante Di condivisione Per la nostra comunità Che in questo periodo Si immerge completamente Nell'atmosfera Delle celebrazioni Nella elaborazione Artistica del pane Non esiste sviluppo Se non si proteggono Le tradizioni Gli altari di pane Di Salemi Costituiscono Uno dei grandi tesori Artigianali Della Sicilia Saranno dieci Gli altari allestiti Nel centro storico Di Salemi In collaborazione Con la chiesa salemitana Dell'associazione cittadina La Proloco Domenica 15 marzo Alle ore 18 Al costello Normanno Svevo Si inaugurera La mostra Ritualità Tradizione E contemporaneità Del pane A cura Di Ornella Fazzina Si è tenuta Dal 7 Al 10 Marzo A Trieste La non edizione Di Olio Capitale La più importante Fiera specializzata Interamente dedicata Alle migliori produzioni Di olio extravergine D'oliva Vetrina D'eccellenza A livello internazionale Olio Capitale È l'unico evento A puntare esclusivamente Sull'extravergine Di qualità Hanno riscosso Ottimi apprezzamenti Gli oli biologici Di altissima qualità La nocellara Del Belice Provenienti Dal territorio Del Galelimos Che erano presenti Con le aziende Agricole Centonze E Scalia E Oliva Oggi dalle ore 17.30 Alle ore 19 Si terrà L'undicesimo incontro Della scuola biblica Del seminario Vescovile Di Mazzara del Vallo In questo periodo Quaresimale E in quello pasquale Il tema principale Dei prossimi appuntamenti Sarà la conoscenza E l'attualizzazione Della seconda parte Del Vangelo Secondo Giovanni La partecipazione Alla scuola È gratuita Gli appuntamenti Formativi Si svolgono Presso il seminario Vescovile Nella piazza Della Repubblica 13 Soluzioni Per la crisi Economica Della Sicilia È il convegno Che si terrà A Marsala Venerdì prossimo 13 marzo Nel convento Del Carmine Alle ore 17.30 L'iniziativa È promossa Da Uni Cusano Università Degli Studi Niccolo Cusano Telematica Roma Un fuori programma D'eccezione Venerdì 20 marzo In concerto Con la sua band A Marsala Arriva Mario Incudine Amato artista Siciliano Incudine È uno dei personaggi Più rappresentativi Della nuova World Music Italiana Una crescita artistica Iniziata dal successo Dei suoi primi album Terra E a Balla la Luna Beddu Garibard E anime migranti L'appuntamento Al baluardo Velasco Di Marsala È per venerdì 20 marzo Alle ore 21.30 Avrà luogo Nel weekend Dal 27 Al 29 Marzo A Mazzara Del Vallo Il laboratorio La Voce Teoria E tecnica Condotto Dall'attrice Docente Vocal Jazz Elisabetta Tucci È un lavoro Sulla voce Indirizzato a tutti Ma particolarmente Indicato a chi Della voce Fa un uso professionale Come attori Politici Insegnanti Cantanti Giornalisti E persone Che lavorano in pubblico Il seminario Prevede un numero Di adesioni Non superiore a 10 Ulteriori informazioni Potete averle Tramite la tutor Cati Manciaracina Al numero 328 62 12018 Domenica scorsa Si è svolta Ad Agrigento La dodicesima Maratonina Della Concordia Con partenza Dal lungomare Di San Leone E risalita Fino a raggiungere Il Tempio Di Giunone Per poi ritornare La vittoria È andata A Vito Massimo Catania E a Tatiana Betta Il gruppo Sportivo Atletica Mazzara Presente Alla manifestazione Con 22 Partecipanti Ha ben figurato Portando a casa Un secondo posto Femminile Di categoria Conquistato Dall'atleta Daniela Di Giovanni Con un tempo Di 1 ora E 42 Ad appena Due minuti Dalla prima E dagli ottimi Piazzamenti Degli atleti Maschili Soddisfatto Il presidente Salvatore Piccione Presente Alla gara Doppio turno Casalingo Per la Vigor Mazzara Mazzara Con questa notizia Noi abbiamo concluso Anche per oggi L'appuntamento Con l'informazione Che ritorna puntualmente domani Alle ore 14 Buona serata Dall'atleta 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 Grazie a tutti.